Una competizione di danza robot si è svolta lunedì nella città di Fujin, nella provincia di Heilongyang, nel nord-est della Cina, alla quale hanno partecipato 29 squadre provenienti da Cina, Russia, Messico e Sud Corea. Il concorso è stato suddiviso in diverse categorie, esattamente come i concorsi di danza ai quali partecipano ballerini in carne ed ossa, e cioè categoria solista, pas de deux, gruppo, balletto classico, yangue, una danza popolare e folkloristica rurale, street dance e danza folk. Il team dell'Università del Messico ha vinto il primo premio per la categoria danza solista dopo una sola giornata di gara, mentre la squadra dell'Università di Ingegneria di Arbin ha vinto quattro premi. Altri quattro sono andati alla Shanghai Yaotong University, alla San Petersburg National University e alla Scuola Media 3 di Fujin. Ad attirare l'attenzione è stata in particolare un'originale coppia di robot a forma di panda giganti.